ciao a tutti cari investitori e cari investitrici ben ritornati sul canale dei conti della vedova allora nell'episodio di oggi o meglio tralasciamo l'episodio di oggi volevo parlare semplicemente sul fatto degli interessi sugli investimenti perché è uno di quelli di quegli aspetti che ovviamente viene guardato anche perché è molto facile da calcolare e con tutte quante le domande che ne conseguono intanto adesso che ho fatto un piccolo esempio con un investimento tipo con un interesse tipo quindi investendo 1000 euro 1000 euro tutti gli anni per dire 1000 euro tutti i mesi con un rendimento in questo caso del 3 per cento tutti gli anni o tutti i mesi si fa il confronto che cosa viene fuori nel senso se io investo 1000 euro il primo anno col 3 per cento faccio 30 euro se investo altri 1000 euro quindi 2000 diventano sempre il 3 per cento diventano 60 euro tutti quanti quei conteggi che diciamo che servono per dare l'idea ma in realtà non servono quasi a nulla perché avere questa costanza nel tempo negli anni non c'è basta vedere a febbraio dell'anno scorso cosa è successo il 3 per cento quello che è molto improbabile che uno l'abbia ricevuto se fa il cassettista poi dopo se invece è molto bravo che investe cerchi momenti di dove il mercato orso si sta esaurendo per poi investire al rialzo oppure la possibilità di investire allo scoperto chiaramente è tutto un altro paio di maniche però diciamo che quello è un investimento molto attivo e in questo caso invece stiamo parlando di investimenti prettamente passivi quindi tu fai l'investimento o come potrebbe essere anche quello dell'immobile no se tu investi un immobile prendi il fammiserato affitto e ovviamente non si pagano mai le spese di manutenzione della casa e quindi hai quell'interesse così va bene quindi qual è il resoconto in questo caso e adesso è giusto per fare una chiacchierata su su questo aspetto allora se noi investiamo mille euro mettiamo una cifra x a caso no con il 3 per cento di rendimento abbiamo 30 euro primo anno poi aggiungiamo altri mille euro facciamo 60 euro altri mille euro facciamo 90 euro e qui a fianco ho messo quanti quant'è la somma degli interessi totali in tutti quanti gli anni o i mesi insomma quello che cosa succede che se ne facciamo adesso ho considerato 30 investimenti quindi per arrivare a 30 mila euro il 3 per cento di 30 mila euro sono 900 euro e nel complesso di tutti gli anni se gli interessi vengono accumulati ogni anno si arriva in fondo al al trentesimo investimento diciamo al trentesimo anno che si hanno 13.950 euro di soli interessi ai quali poi dovranno essere applicate le tasse o comunque nel tempo vengono applicate le tasse e insomma e quindi questo qui è un po il semplicissimo resoconto quindi se tu sai mille euro tutti gli anni investiti arrivi dopo trent'anni che i 30 mila euro fai 900 euro all'anno di solo interesse escluso le tasse diciamo lordo e hai avuto un complessivo di 13.950 euro quindi a sto punto già farei fare la prima considerazione allora investire mille euro all'anno sono praticamente meno di 100 euro al mese sarebbero cosa sono 80 no tanto sono 9 vabbè diciamo 85 euro al mese no facciamo 90 quindi una cifra non particolarmente esagerata il punto qual è che tu dovresti fare per non pagare anche le spese di andata mercato e tutte le altre menate che qui non vengono assolutamente considerate tu metti da parte 85 euro al mese arrivi in fine anno che è un migliorio d'euro circa bene dice ok questo che lo metto in investimento e lo investo in un etf sul azionario globale no tipo quello che io s wda perché nel tempo comunque è cresciuto molto bene e sicuramente ha fatto un qualcosa di superiore al 3 per cento oppure possiamo contemplare un euro stocks 50 molto più tranquillo è un 3 per cento lo potrebbe prendere in considerazione o meglio ancora un obbligazionario anche se con mille euro mi sa che l'obbligazionario è un po è un po stretto con con mille euro all'anno va bene comunque diciamo che si fa questa operazione qui quindi io tutti gli anni ogni mese metto via il mio il mio gettone a fine anno mi faccio il mio acquisto e l'anno successivo ho circa un interesse di questo tipo così non vado a sommare se li mettessi 85 euro al mese non fare più fatica a fare il discorso del 3 per cento cioè lo vedrei l'anno successivo e diventa una cosa un po più complicata quindi per farla più semplice o si potrebbe fare anche un pack dove tutti i mesi si mettono 85 euro è che sicuramente va benissimo anche quello anzi costerebbe anche di meno probabilmente no senza probabilmente costerebbe di meno comunque ci si ritrova alla fine con 30.000 euro messi da parte più teoricamente 13.950 euro quindi avremmo 43.950 euro di capitale messo da parte che sicuramente viene molto comodo per tamponare insomma delle necessità eventualmente però si parla di 30 anni quindi se tu hai 20 anni vuol dire che sono soldi che messo da parte per quando hai 50 anni se hai 30 anni a 60 se hai 40 anni si parla di 70 anni cioè è un orizzonte temporale adeguato perché tanto gli investimenti hanno necessità di avere un orizzonte temporale sufficientemente ampio però insomma avere a 30 anni di distanza con l'idea di risparmiare effettivamente avere da parte 44 mila euro meno perché poi dopo c'è da pagare le tasse e tutte le varie cose nel mezzo non so perché ma non mi sembra una cosa particolarmente privilegiata al che cosa ho fatto ho contemplato anche il fatto di separare il discorso tipo qui in questo caso i soldi degli interessi non vengono accumulati nell'investimento così riesco a fare anche questa distinzione e possiamo fare anche la prova adesso con l'interesse composto quella cosa magica che a tutti quanti piace quelli che fanno che parlano di investimenti quindi dove dicono se tu fai tutti gli anni gli investimenti quello che guadagni lo rinvesti e così da 100 da mille euro fai 100 euro di guadagno perché ovviamente loro contemplano il 10% sempre che ovviamente tutti quanti riescono a fare non è vero soprattutto se lavori con in sistemi molto conservativi come i titoli di stato con il 10% col cacchio che lo fai però diciamo che tu lo fai perché sei bravissimo quindi fai mille euro l'anno dopo hai 1100 quindi diventa tutto un giro così e va bene e sei super ricco ma di quanto siamo più ricchi vediamo un po' allora così e se tu metti i soldi e gli interessi te li metti da parte se invece i soldi li prendi e anziché metterli da parte li rinvesti succede sta cosa qui mi metto qua dall'altro lato e succede questa cosa qui noi abbiamo 1000 euro come prima si vede abbiamo 1000 euro 30 euro di guadagno l'interesse composto è 30 euro va bene secondo anno 2030 euro perché abbiamo aggiunto 1000 euro più di 30 di prima quindi facciamo 60 euro e 90 centesimi quindi abbiamo già fatto 90 centesimi in più secondo anno diventa 3.090 euro noi abbiamo già fatto un 10% in più bello così no andiamo avanti andiamo avanti andiamo avanti ci ritroviamo in fondo che anziché 30.000 euro abbiamo 47.575 euro quindi in fondo abbiamo l'ultimo anno 1427 euro e abbiamo accumulato 19.000 euro di interesse composto wow che magia siamo praticamente arrivati ad avere qualcosina in più però voglio dire in 30 anni no sembra un po' una presa in giro mi sembra nel senso che è vero si guadagna di più con l'interesse composto però obiettivamente cioè tra avere 30.000 euro no c'è 43.950 euro e 47.575 cioè perché questi chi non è che dovete metterli aggiungerli a questo questo chi è la somma che ho fatto io per vedere un po' il discorso perché qua sono da parte qui di qua invece sono già stati aggiunti e quindi alla fine di tutto ci sono 4.000 euro in più con 1.000 euro investiti tutti gli anni con gli interessi rimessi da parte e quindi quindi che cos'è che succede che arrivati a una certa cifra cioè quella dei 50.000 euro circa la differenza sostanzialmente non c'è perché in 30 anni avere insomma 3.000 euro in più 3.500 euro in più 3.600 euro in più in 30 anni è una cifra ridicola porca troia è ridicola quindi sta cosa dell'interesse composto viene messa come favola che è bellissima vi fa guadagnare l'inverosimile però ci vogliono delle cifre molto più importanti e quali sono queste cifre importanti? facciamo delle prove adesso mi rispostano di qua allora questi che sono valori che posso modificare quindi da 1.000 euro anzi facciamo così da 3 lasciamo sempre un 3% 1.000 euro partiamo anziché con 1.000 euro partiamo con siamo arrivati circa 50 allora partiamo no scusate qui la partenza è 1.000 euro no? questi sono i soldi che vengono aggiunti tutti gli anni quindi anziché 1.000 euro diciamo che 85 euro al mese mettiamo via 150 euro al mese no? più o meno e siamo a 1.600 150 sono 1.800 dico bene? dico giusto? sì sono 1.800 euro al mese no? e quindi qua rifa direttamente tutti quanti i calcoli ho già così cambio qualcosina? sì e qualcosina cambia perché siamo a 53.200 più 24.300 77.000 contro gli 83.000 in 30 anni anche qui abbiamo 6.000 euro di differenza circa va bene però ancora non è un'esagerazione aspetta facciamo per far prima no? facciamo così uguale questo più questo così e qua sotto facciamo anche la differenza quindi qui mettiamo uguale tanto questo che sarà sempre più alto no? meno questo così vediamo la differenza che c'è subito subito quindi mettiamola anche in grassetto 6.000 euro di differenza in 30 anni facendo l'interesse composto a differenza di quella normale va bene mettiamo anziché 1.800 iniziamo a risparmiare 2.500 euro al mese e all'anno con 2.500 euro all'anno c'è la differenza inizia ad essere sostanziali 100.000 euro da una parte il 107 e il 115 8.000 euro di differenza quindi non è una cosa anche qui sono tanti soldi per carità quando arrivi in fondo ha senso avere questa differenza qui però sono così tanti è così è non lo so qui la differenza interessante arriva sotto un altro aspetto probabilmente se io metto il nuovo 1.000 euro io investo 1.000 euro all'anno anziché il 3% facciamo un 7% cosa succede con un 7%? ecco adesso cambia come prima 1.000 euro quindi si fa 1.000 euro all'anno si mettono da parte con un interesse del 7% no? e qui la differenza inizia ad essere molto importante perché abbiamo 60.000 euro da una parte contro 90.000 dall'altra c'è praticamente il 50% in più in 30 anni adesso inizia ad essere importante questa differenza quindi il discorso qual è? alla fine di tutto che l'interesse composto ha senso se l'interesse che si guadagna è molto alto perché se l'interesse è basso o i soldi sono tanti tantissimi o la differenza non è tanto interessante perché se noi proviamo per esempio mettiamo così torniamo al 3% e qua ci mettiamo 5.000 euro all'anno da parte no? metto 5.000 euro a parte dalla non basta lo stesso c'è l'interesse composto no? diciamo 5.000 euro tutti gli anni abbiamo 212.000 euro da parte in 30 anni e 228 con l'interesse composto non c'è niente da fare i primi anni tanto sono sempre più o meno uguali la differenza inizia ad esserci dopo dove però c'hai 1.000 euro da una parte in più rispetto che da là ma neanche diciamo si sono 1.000 sono 1.600 1.600 dopo da qui inizia ad aumentare fino ad arrivare a che cosa? 2.500 circa 2.500 euro di differenza ma con 146.000 euro e 228.000 euro cioè iniziano ad essere cifre un po' importanti per poi avere alla fine di tutto tutto il giochino 16.300 euro di differenza fra l'interesse composto e quello no quindi anche qui 5.000 euro inizia ad essere secondo me quasi il limite che una persona mette da parte tutti gli anni in investimento perché tanto voglio dire se tu inizi ad avere la casa compri la macchina tutte le varie cose comunque la possibilità di poter risparmiare tenda a diminuire no? con l'aumentare del tenore di vita o delle spese che si hanno perché dopo inizia ad avere un figlio o due figli o tre figli cioè è vero che magari hai qualche aiuto statale c'è qualche agevolazione però comunque le tue spese iniziano ad essere sempre più alte poi se sti ragazzi sti ragazzi vanno all'università scuola e tutto quanto insomma comunque sono spese sono spese che ti iniziano a limitare nella parte di denaro che tu riesci a mettere da parte quindi l'unica cosa che puoi fare è quello di aumentare gli interessi e come fai a aumentare gli interessi? devi mettere il rischio per aumentare il rischio è molto facile o vai solo sulla scenario puro a leva non ha senso perché diventa la possibilità proprio di perdere tutto ci sono discorso degli etf quelli ad azionario e basta per forza come fai? ci sono strumenti più più performanti per carità ci possono essere però diciamo che quelli più tra virgolette sicuri più stabili sono quelli degli indici gli indici tendenzialmente perché poi vanno a recuperare di base l'inflazione perché tanto le aziende che cosa fanno? aumenta l'inflazione e devono per forza aumentare i costi aumentano i costi e aumentano anche il valore degli oggetti che vendono dei servizi dei beni dei servizi che vendono e quindi si vanno ad adattare l'inflazione e in più si fanno qualche aggiunta perché poi magari l'azienda aumenta di importanza e quindi quello è quindi cosa fai? aggiungi sulla scenario globale o su un indice di solito si utilizzano quelli americani perché sono tipo il Dow Jones è quello che ha la storia più lunga quindi da sicurezza hai uno storico sufficientemente lungo per dire che anche se proprio io entro e da lì inizia il tracollo che scende tutto come è successo negli anni 30 come è successo poco fa mille storie però in un lasso di tempo sufficientemente lungo mi si recupera riprendo tutto con tutti gli interessi del caso quindi quella lì diciamo che è l'unica soluzione perché altrimenti l'interesse composto veramente non ha senso ritorniamo a un 7% metto un 7% perché ancora inizia a essere alto ma è al limite secondo me della decenza qui che cosa abbiamo diciamo 300.000 contro 143.000 euro di differenza e siamo sempre insomma circa il 50% in più la metà in più col 7% quindi è inutile mettere più soldi diciamo che quello che interessa sono semplicemente le percentuali 12% in più andiamo 85.000 esatto qui facciamo molto di più già ci ritroviamo quasi con il 100% in più solo di distacco il distacco che c'è fra l'interesse composta e no è il 100% in più e così tu dici oh adesso effettivamente mi fa molta differenza fare questa questa distinzione tra non farla anche perché va bene così si guadagna molto di più noi ritorniamo al 3% dici ok io però sono conservativo voglio voglio tenermi i miei soldi così in un qualcosa che non mi metta troppo a rischio e va bene quindi metto il mio 3% BTP cose varie 1000 1000 eurini tutti gli anni ok mi ritrovo in fondo che la mia differenza non è sostanzialmente nulla ma non solo se io continuo investire 1000 euro ma gli interessi me li tengo da parte che poi posso metterli anche in un conto deposito insomma in qualcosa che sono garantiti stanno lì e mi danno un piccolo interesse aggiuntivo che è poca roba però sta sta lì e che cosa succede che io mi ritrovo alla fine con 3000 euro in più circa con interesse composto però io ho messo a rischio tutto mentre invece qui di qua mi ritrovo in fondo che ho 14.000 euro che non sono a rischio perché sono fuori dal mercato 30.000 euro che sono a rischio e quindi sostanzialmente mi ritrovo con un po' meno soldi ma una percentuale di rischio completamente diversa perché ho il 50% no scusate il 30% del capitale poco più del 30% che è fuori dal mercato quindi quello non rischia di per sé oppure può stare per l'appunto come dicevi in un conto deposito se certo se poi mettiamo che per qualche motivo ce li ho in euro l'euro crolla perché non vale più niente gli stati si separano perché tra l'exit di qua e l'exit di là dicevo che l'Europa si frammenta e quindi l'euro non vale più niente perfetto allora lì mia colpa ho fatto un è proprio la moneta sbagliata e a quel punto il problema non sarà di certo solo il mio sarà di molte molte persone quindi sta magia dell'interesse composto è bello da parlarne perché è vero può guadagnare però cioè sono sempre lì con con gli investimenti se non hai soldi non non diventerai mai economicamente autonomo economicamente libero quindi non ci sarà mai quella libertà finanziaria che si punta dove si dice metto i soldi da parte li tengo lì ci pensano gli altri e io campo di 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 aria e di luce non si fa bene sono contento di avervi dato questa disillusione di avervi tolto anche magari questo pregiudizio che spesso viene fornito dove c'è questo interesse composto che sembra la panacea dei miracoli perché anche Einstein ha detto ne ho sentito un po' di tutti i colori e mentre invece è un sì è meglio è un diciamo un surplus sugli investimenti quindi fa guadagnare qualcosa in più però o l'interesse è molto alto oppure ciccia bene dai con questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti